Un po' di roba, ecco, guarda quanto è bello questo rotto, quello è bello, vedi, oltre all'utilità, gli ha dato anche la forma estetica, ha fatto questi rompi, vi dicendo, e ha creato un ornamento, e quello che c'era è bello, quindi non guardava solo l'utilità, doveva pagare pure il gusto estetico di chi l'ha fatto, è lì il bello di una volta, invece oggi abbiamo perso questo gusto, di fare le cose che doveva pagare prima l'artigiano, e poi lo dà a chi è stato commissionato. Guardate quanto è bello questo qui, vedete un santino, si apre in questo modo, poi si chiude, quest'altra parte si riapre in quest'altro modo, ma guarda che invenzione, e questo per sempre non lo conoscevo, questo sistema. Semplicissimo, però efficace. Vedo, quando arrivo a queste chicche, come fai uno ad emozionarsi? Io dico sempre, molti muoiono più i dispiaceri, no? E invece a me mi sa che mi prendo un infarto per troppa gioia.